In questi giorni ho sentito delle cose che non mi piacciono, che non rispondono al vero. Alcune volte per nascondere magari qualche responsabilità si provoca una discussione, si alimentano. Allora Fano ad oggi non ha fatto assolutamente nulla, questo sia ben chiaro. Ho letto anche dal mio collega alcune dichiarazioni che non erano riportate sulla stampa e quindi magari se mi spiega anche come fa a averle, così alcune non le conosco neanche io, così avremo qualche elemento in più. Allora invito il mio collega sindaco di Terra Roveresche, che ha detto una serie di situazioni, di fare un incontro pubblico. Vengo io nel comune di Terra Roveresche, però con dati, con tutto, in modo che diciamo la verità, parliamo di questioni concrete, con responsabilità e poi le scelte si potrebbero fare insieme. Ho aperto una parentesi e non l'ho richiusa. Quando rivendicavo un'attenzione verso il territorio, bene, questo sindaco, quando si è insediato, una delle prime cose che ha fatto, coinvolgendo tutti i comuni soci dell'entroterra, ha stipulato i patti parasociali, dove con il 3% di azioni che sono a capo dei comuni di minoranza, ma in realtà poi si discute, gli riconosciamo il 30%. Il 30% anche in termini di benefit e quindi io penso che questo sia, nell'intero territorio provinciale, siccome sono due società, io penso che un'attenzione come questa non ci sia mai stata. Poi sono gli elementi concreti che contano. Allora, rinnovo questo invito, ma nella tranquillità, nella trasparenza, perché le cose, dal mio punto di vista, nel rispetto anche di chi rappresentiamo dei cittadini, dobbiamo chiamarle cose per nome e cognome, per quel che sono. Quindi mi rendo disponibile, vengo su, ci concordiamo, facciamo un confronto parlando di cose con atti, con documenti, pubblico, con la gente, con i giornalisti, così senza sutterfugi e ci confrontiamo, ragioniamo, però nella verità.